Monte Scaglioso, due giorni dopo la terribile frana che ha colpito un'area estesa su una superficie di circa 60 ettari nella parte sud-ovest del paese del Materano. È uno scenario che più volte si è definito apocalittico e visto dall'altro lato, da quello parallelo ed opposto alla strada che conduce a Piani del Bradano, è ancora più impressionante. Si capisce quanto il dislivello sia stato enorme nel tagliare letteralmente in due il terreno, le abitazioni e gli opifici che insistono e sussistono nella zona. Una frana che è ancora in corso e che va monitorata con la collaborazione della comunità a non accedere assolutamente ai luoghi. Quest'oggi lo iniziano a fare la protezione civile nazionale che giunge qui in questi posti e un tavolo tecnico coordinato dalla regione Basilicata, dal comune e dall'università che servirà a chiarire un po' le cause di quello che si è verificato. Intanto quest'oggi a Monte Scaglioso ha fatto visita il neo governatore Lucano Marcello Pittella che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Noi faremo il massimo non solo per consegnare loro conforto, vicinanza e solidarietà ma anche per mettere in campo tutte le azioni possibili perché Monte Scaglioso riprenda a camminare, riprenda a vivere e anche coloro i quali hanno avuto danni diretti possano essere per quello che è possibile risarciti. Abbiamo bisogno però di una grande partecipazione corale di un'intera regione e di un governo nazionale che deve far sentire l'attenzione forte pronunciata a questo nostro territorio. Ecco da questo punto di vista lo Stato ha ancora tanto da dire e da dare alla Basilicata. Forse è il caso come ha detto lei di invocare l'unità e l'unità anche dei parlamentari che si comincino veramente a far sentire. Io li ho ascoltati, ho sentito stamane il viceministro Bubbico allertato, piegato anche egli da questa vicenda e sostanzialmente allertato su Gabriele, sul Premier Letta. Noi abbiamo bisogno di far sentire tutti insieme la nostra voce, la nostra forza coesa per dire al governo nazionale che non ci sono eventi di serie A e di serie B come questi o come quelli che negli ultimi mesi hanno purtroppo consegnato difficoltà all'intera Italia penso alla Puglia e penso alla Sardegna. Ma abbiamo esattamente da avere un atteggiamento equanime e in questo caso la Basilicata ha diritto dal 2011 su questa vicenda specifica delle alluvioni di avere risposte immediate e più significative, più corpose anche sul piano degli interventi. La natura spesso si ribella anche all'uomo, occorrerà aprire una chiara attività di osservazione del territorio per far sì che questioni del genere non si verifichino più per una messa in sicurezza, per la prevenzione? Noi dovremmo mettere in campo azioni che possano monitorare il territorio sul fronte della sismicità e del dissesto idrogeologico perché il nostro territorio regionale purtroppo per aree ha questa sfortunata peculiarità e poi tentare di fare presidi importanti di prevenzione del territorio, i nostri fiumi, i nostri corsi d'acqua, la nostra capacità di drenare le acque nel sottosuolo, la nostra capacità di tenere gli alberi fluviali a norma, la nostra capacità di fare azioni sul territorio di prevenzione e poi abbiamo bisogno anche di limitare l'eccedere della mano dell'uomo, mettiamola così per essere un po' più tranquilli, per dire lì dove non si può costruire non si deve costruire e non c'è politica che si piega e non c'è richiesta in questo senso che i cittadini devono farci. Su ciò che è accaduto non sta a noi andare alla ricerca di responsabilità, lo facesse chi è preposto senza risparmio per alcuni, assumendo in testa ad ognuno la responsabilità che è propria, noi da qui ad andare avanti, rigore, severità, rispetto della norma. Come abbiamo detto quest'oggi è anche il giorno dell'insediamento di un tavolo tecnico che dovrà chiarire le cause di quanto è accaduto e tentare di individuare soluzioni di quanto più durature per questo problema. È anche il giorno in cui arriva la protezione civile nazionale e su questo piano è attivo l'assessore Lucano alle infrastrutture e protezione civile Luca Braia. Dopo i primi sopralluoghi fatti sia attraverso il sorvolo con l'elicottero che attraverso un sopralluogo a terra fatto ieri con i tecnici regionali, abbiamo fatto venire la protezione civile nazionale, viene il dottor Giordano accompagnato dall'ISPRA CNR di Bari, che è il loro braccio operativo per fare un ulteriore giro di ricognizione sull'area oggetto della frana, perché abbiamo chiesto l'intervento della Grandi Rischi, perché è possibile che questo fenomeno di così grande portata abbia necessità di un livello di coordinamento nazionale, quindi se ci saranno gli estremi saranno loro a coordinare anche l'operatività del tavolo tecnico a costituirne un altro di un altro livello. Noi siamo già pronti per farlo, abbiamo già gli atti pronti, ma già siamo al lavoro, nel senso che le indicazioni sono già arrivate, è già in corso il drenaggio delle acque ristagnanti che stanno alimentando ancora le aree in frana, abbiamo già operato con l'Italgas per il ripristino della condotta, stiamo già facendo le operazioni che sono classiche, abbiamo cominciato a monitorare con strumenti, con i vetrini, i macromovimenti che ancora possono essere, sono possibili, e poi avvieremo la fase di studio coordinata appunto o dal tavolo nazionale o dal tavolo tecnico che oggi siamo pronti a insediare. La nostra è una comunità che ha risposto benissimo a questo evento, ci siamo trovati pronti, abbiamo sostenuto le famiglie che hanno avuto da bisogno, abbiamo sostenuto gli imprenditori che hanno perso tutto, come avete avuto modo di capire in questi giorni. Noi adesso alla comunità stiamo chiedendo senso di responsabilità come non è mai mancato, stiamo chiedendo collaborazione e solidarietà verso chi sta vivendo delle giornate assolutamente tragiche che rimarranno nella storia di Montescaglioso per tantissimi anni. Ci siamo attivati dal primo giorno coinvolgendo tutti gli enti, tutti i livelli istituzionali, dalla provincia alla regione, dai ministeri competenti alla presidenza del Consiglio e alla protezione civile nazionale. Stiamo lavorando per ritornare presto alla normalità perché Montescaglioso è un paese vivo che merita di tornare presto alla normalità e consapevole del fatto che la normalità da oggi in poi è seriamente compromessa.